Ciao, posso parlarti un attimo? Dovete entrare subito, erano in quattro! Che diciamo sempre? Non dovresti inventarti cose mentre parliamo. Potete aprire la porta? Stanno entrando! Ci sono io, tesoro! Non siamo qui per farvi male, ma dovete restare qui con noi. Nel passato altre famiglie sono state chiamate a prendere questa decisione. La vostra famiglia deve scegliere di sacrificare volontariamente uno di voi tre per impedire l'apocalisse. Noi non sacrificheremo nessuno! Per ogni no che ci dite, centinaia di migliaia di persone moriranno. Sta succedendo veramente. Amore, chiude gli occhi. Farete una scelta. Mi prego, dovete fidarvi di noi. Siamo gente normale come voi. Non importa, nessuno di noi vi crede. Non sceglieremo mai nessuno. Non sceglieremo mai nessuno. Wen! 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 Temo che la regola sia che nessuno può andarsene finché non sceglierete. pensi davvero che sia tutta una coincidenza? io lo devo credere! Mio figlio morirà. Mio figlio morirà se chiama Charlie. Come madre, io vi supplico. Sei l'unico che può fermare tutto questo. Andrew, ho visto qualcosa. C'era qualcosa nella luce. E ora lo sento. Ora prendo la mia famiglia e me ne vado. Andrew, torna qui! Se non sceglierete, il mondo morirà. Abbiamo l'opportunità di decidere il destino di tutti. Il tempo sta per finire. Ho paura. Non c'è nulla di più imperfetto e perfetto in questo mondo della nostra famiglia. Vi prego, fate una scelta. Sempre insieme. Sempre insieme. Ve lo chiedo un'ultima volta. Farete una scelta. 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 Grazie a tutti.